quando parti eh ma tu al quirinale stavo guardando su qua senti ma adesso c'è il quirinale no? eh! c'è il quirinale no? c'è il quirinale ma vittima non c'era? si adesso l'hanno visto il quirinale l'hanno costruito? è l'unico! signori, cari miei! io volevo fare secondo uno e questo potrebbe essere un'idea per un settaccio pronti! mattarella! no! quale regista o quale attore vorreste al quirinale? ma italiani perché stranieri non si può? no! Raul Bova! Raul Coglia! ma cino c'era quant'anni? no! eeeh! Gasman! Vittorio Gasman è morto! Locascio! tutto il caso del figlio unico è morto! ma sono morti tutti! stavo per dire tutto il caso del figlio unico e volevo dire il nome del figlio il figlio unico! il figlio unico! uno solo! si aspetta Locascio è di sinistra ma di solito il presidente della repubblica è di sinistra esatto! o almeno questa è l'accusa di quelli di destra anche se in realtà non esiste neanche più la destra e la sinistra! esiste solo il lato! o magari prendiamo un'attrice straniera e la facciamo doppiare dalla bivetta! bravo! e comunque sta in politica! no è sorella della politica! eeeh! se lo fa insegnare! questo è vero perché dice uno dice ah quanto è bravo Robert Delito però tu non l'hai mai sentito con la voce sua! no! tirzi! tirzi il presidente della repubblica! nooo! Roberto Peligni! lo sai che l'hanno proposto? iniziamo a Magalli! Magalli! Ezio Gregg! no allora mi piace la donna intanto un'altra attrice perché è una donna ed è una donna Magalli Magalli! poi doppiata! doppiata! e ti chiedono tutto tipo Ellen Mirren! doppiata! e sotto Magalli! facciamo la prova! facciamo la prova! io adesso muovo il labial in inglese e tu mi fai la voce vediamo se può andare bene! questo è il quirinale! quirinale fria! sono orgoglioso della carica di cui sono rivestito e mi ritengo veramente una persona con la farma! hashtag hashtag Magalli al quirinale! ma io sono contrario a Magalli! no no no! io penso di essere l'unica italiana a contrarre a Magalli! infatti più che Magalli voglio in quel come si chiama? Magalli! come si chiama? grandi! no come si chiama quello che gli fa il condominio! la giuria! la commissione! la commissione! dai che iniziamo! basta cinese! aiuto!